signori e signori tra poco il programma punta al programma bandiere della nostra lente ammiraglia signori signori c'è talentuno ma occhio perché dopo talentuno la rivelazione dell'anno del box game il box game è talentuno ci vediamo giovedì un saluto alle care iene amate iene ci siamo anche occhialati per ringraziarvi fanno un po' male per ringraziarvi delle belle parlare grazie sempre gentile e sembri matwingo perfetto dobbiamo iniziare ciao a tutti i nottamboli benvenuti a talentuno il sito www.talentuno.it che manda in video il vostro talento ci sono arrivati un sacco di video talenti presunti talenti talenti valenti gente che non sapremo neanche dove collocare ma non sta a noi giudicare ci sarà anche la sorpresona finale ho infilato una serie di rime ciccio sì che se partiamo col programma che croce la sfanghiamo un applauso grazie ho conosciuto un tale un tale un poco lento che nonostante tutto era un tale di talento che aveva del talento non ci credeva nessuno per dimostrare il suo talento il tale è andato a talentuno se anche tu sei un tale di talento viene a talentuno al primo posto signori della nostra classifica di televisione maria con il suo ballo maria allora vi tolgo maria ballerà tra poco ci piace non interrompermi perché è un momento importante nel senso che parliamo di montellic e poi le manda una caterva di video le manda una caterva secondo me è repertorio così magari quest'altro gli da anche il suo indirizzo le manda un po' a noi e un po' a noi no scherziamo grande montellic di cui vediamo questa settimana al primo posto eros playboy impazzina poi come lo interpreta io sono eros faccio il conduttore di mezzi pubblici i am a driver of public bus guido l'autobus faccio il turno anche di notte perché a me di dormire non me ne frega niente no meta o lavoro le notte o vado a vivere ecco qua non c'è il sottotitolo però ma si capisce uguale linguaggio internazionale body language si altro che film se io cosa ci vorrei per te io mi è finito bisogna che vada via cos'è il colpo di scena chiama questa sera c'è un turno di 8 ore con una tedesca di 23 anni è ieri che faccio riposare il mostro hai capito? questo non è un selezionato è il primo in classifica l'avete votato voi potete votare voi vi ricordo su www.talentuno.it e dici chi è Montellic noi lo sappiamo ormai bene si è Francesco Montelli, pittore, scultore e ravennate che evidentemente rave? rave? ravennate ravennate come tu parli bene ravennate ci piaci sigla e sommario la spanghiamo un applauso grazie sigla ho conosciuto un tale un tale un poco lento che nonostante tutto era un tale di talento che aveva del talento non ci credeva nessuno per dimostrare il suo talento il tale è andato a talentuno se anche tu sei un tale di talento vieni a talentuno se anche tu sei un tale di talento quando ti fischi a un orecchio pensa alla ghianda grazie a tutti grazie a tutti